Ci siamo, quindi accogliamo con grande piacere tra noi Eleonora. Ciao Eleonora! Ciao Leo! Ciao ragazzi, finalmente ero qua dietro le quinte che fremevo, vi ho seguito e che bello è questo format di calcio femminile. Finalmente, finalmente c'è qualcosa del genere, si dà grande spazio a quello che è il nostro movimento e io non posso che farvi i complimenti per come avete gestito questa primissima. Sono un po' buona, ci vuoi bene, miglioreremo, miglioreremo. Partiamo, così ci racconti, esatto, vai Marti, lascia a te l'incommento. No, ma allora io innanzitutto tu sei, appunto, prima puntata, la cosa che io ti vorrei chiedere è, primo anno di professionismo, cioè tutti ci chiedevamo chissà come sarà, com'è stato il primo anno da professionista? La prima stagione da professionista in campo, fuori, cosa è cambiato praticamente? Guarda, come si stava dicendo in precedenza, credo che il calcio femminile in Italia stia accelerando in maniera proprio esponenziale. E quest'anno è un po' come aver vissuto tanti anni in uno, comunque c'è tanta cura nel dettaglio, tanta attenzione, sia in campo che fuori dal campo. Stiamo vivendo poi un campionato veramente entusiasmante e ci sono tanti addetti ai lavori super appassionati che lo stanno facendo crescere. Oltre a noi giocatrici, comunque non possiamo scordarci di tutti coloro che davvero ci stanno mettendo tutti loro stessi per poter accelerare e prendere margine. Perché comunque si diceva appunto che noi siamo partiti tanti anni dopo, vent'anni dopo, tante realtà. Però comunque stiamo facendo passi da gigante, quindi è tanto soddisfacente per noi calciatrici che finalmente possiamo essere considerate professioniste. Quindi questo grande amore per questo sport che alla fine è vita e che diventa professione. Insomma, l'aspettavamo da tanto, però ogni giocatrice di oggi può e deve solo ringraziare tutte le giocatrici che fino ad oggi hanno fatto del gran lavoro sul campo e tutte le persone che dietro continuano a farlo. E lei, io ti chiedo questo, nel quotidiano, nella tua routine, nella vostra routine, sai benissimo che io mi sono spesa in prima linea per questo grande passaggio epocale, ma è cambiato veramente qualcosa o era già cambiato da quando sono arrivati i club maschili che quindi già vi avevano messo nelle condizioni di essere professioniste e in realtà adesso la cosa che è veramente cambiata è che nel bonifico che arriva ogni mese cominciano a maturare i contributi della pensione, che questo è un dettaglio fondamentale visto che appunto la carriera è breve e poter conteggiarli direi che è qualcosa di importante. Quindi al di là di questo aspetto burocratico, se anche nel quotidiano comunque hai avvertito, avverti delle differenze, non so, legato ai vostri impegni, perché magari sono aumentati, legati alla vostra libertà perché magari è un po' restretta, non so, raccontaci tutto. Sì, posso confermare tutto quello che stai dicendo perché comunque la nostra quotidianità adesso viene curata nel minimo dettaglio dall'allenamento, quindi tanti aspetti che in realtà circondano le nostre ore passate sul campo perché non ci sono solo quelle, c'è l'alimentazione, c'è il sonno, c'è l'attivazione, c'è il recupero post allenamento, c'è la fisioterapia, quindi c'è tutto lo staff medico, ci sono le strutture messe a disposizione, c'è il materiale messo a disposizione dai GPS ai cardio, all'analisi dati, alla videoanalisi, alla preparazione delle partite, c'è tutto uno studio dettagliato, cucito intorno a noi calciatrici, tante volte personalizzato, che gli anni precedenti era quasi difficile, a tratti impossibili trovare in tanti club. Perfetto, io aggiungo una cosa ma lo spieghiamo per chi ci sta ascoltando da casa perché magari non è esperto di queste cose, ovviamente oggi le giocatrici sono patrimonio della società, significa che se c'è uno scambio tra una squadra e l'altra la società può anche monetizzare, penso per esempio a Lina Urtig che la Juventus ha ceduto all'Arsenal in estate guadagnando 150.000 euro. Qualcuno potrebbe sorridere perché potrebbe immaginare altre cifre, ma se fino a ieri era zero è un inizio e quindi queste cifre sono destinate sicuramente a crescere e questo significa anche che prima da dilettante potevi andare all'estero liberamente, quindi nessuno ti poteva impedire di fare questa scelta calcistica, adesso invece il trasferimento che sia domestico, come si dice in gergo, quindi dentro al campionato italiano o in una squadra straniera serve sempre il fatto che la società in cui giochi deve accettarlo e trovare quindi una quadra con la squadra che ti vuole. Questo è un aspetto che è cambiato, ricordiamo, solo in Serie A perché è nella Serie A che parliamo di professionismo, della Serie B in giù invece ancora chi vuole andare a giocare all'estero è libera di cogliere questa opportunità e che ovviamente è un'esperienza di vita incredibile. Tu oltretutto so che sei andata a studiare al college in America anni fa e quindi penso che chi meglio di te può raccontare come è così importante anche vivere da giovani esperienze attraverso culture calcistiche in primis ma anche di vita diverse da quelle in Italia. No esatto, penso di aver vissuto ad ora l'esperienza più bella, più formativa della mia vita, un'esperienza che a me personalmente ha cambiato totalmente perché io sono partita come una bimba, una ragazzina super super timida, insicura e non sapevo neanche bene dove sarei arrivata, non mi ero neanche documentata perché io quell'anno mi ricordo che avevo la maturità, la patente, quindi tutti gli esami, gli esami per poter accedere al college in America perché devi sostenere tutta una serie di esami, quindi manco avevo guardato come sarebbe stato il college, lo stato, niente, però mi sono proprio buttata accogliendo questa grande opportunità di ottenere, di avere questa borsa di studio completa per poter sostenere gli studi, il percorso sportivo e la vita in generale in campus negli Stati Uniti e ad oggi tanti ragazzi si avvicinano chiedendo consigli sul partire o non partire e io continuo a dire assolutamente sì, hai l'opportunità adesso, viviti questa esperienza perché poi te la ricorderai tutta la vita davvero. Scusate ragazze, io prima di iniziare questa avventura speravo, speravo tantissimo di ricevere questo messaggio e adesso ve lo faccio vedere, era il mio sogno, era il mio sogno che io ho realizzato ragazze, siete pronte? Io speravo di ricevere questo messaggio ed è arrivato, vediamo se sono riuscita, vediamo vediamo Max, se mi aiuti tu, ma credo di sì. Siamo trepidanti, ci stai tenendo sulle spine, Matti. Eccolo! Eccolo! Ce l'abbiamo fatta! Che bello! La prossima volta posto il video di quando li lavo sul serio così la gente ci crede. Esattamente, esattamente. No, questo era un attimo per aprire una piccola, adesso lo fogliamo, una piccola qualeantesi che il calcio femminile sicuramente non piacerà a tutti. L'importante è avvicinarsi senza pregiudizi e di guardare le partite, secondo me, non so se siete d'accordo voi, senza aspettarsi di guardare una partita di calcio maschile. Cioè, questo in generale, se uno guarda la serie B, la serie C, non si aspetta di vedere le prime due in classifica di serie A, non si aspetta di vedere la Champions League. Calcio femminile dà quello che dà in termini di tecnica, emozioni, di passione e fare i paragone, l'abbiamo detto tante volte, che non è il caso e possiamo anche non lavare soli. Cioè, sappiamo fare anche altro, non lavare i piatti. Io giocare a calcio non bene, voi due sì, però magari... Abbiamo subito sdoganato lo stereosipo, dai. Ma sì, dai, dai. Esatto. Poi approfondiremo e approfondiremo e spiegheremo anche le differenze che ci sono, ma invece la nostra curiosità, la mia almeno, è tu che hai incontrato la Roma da avversaria, cosa ne pensi di questa squadra in generale, magari anche in particolare della loro difesa, visto che è la miglior difesa del campionato? Quali sono gli aspetti che ti hanno impressionato di questa grande cavalcata della squadra di Spumi? Guarda, è una squadra che io stimo tantissimo, proprio per la sua completezza e soprattutto per il percorso fatto e la continuità nel percorso, perché comunque la difficoltà sta proprio nel mantenere una certa crescita, mantenere la salda e le ragazze della Roma con l'allenatore e tutto lo staff lo stanno proprio facendo. L'ho affrontata in prima persona all'andata del campionato, ero sul campo, al ritorno invece ero infortunata, quindi non ho potuto giocare, però quello che mi ricordo, le percezioni da campo dell'andata è proprio quella di una squadra unita che, tra l'altro in questa partita siamo arrivate a sostenere una grande partita, un pareggio fino agli ultimi minuti finali e loro continuavano a imporre comunque la loro identità di gioco con totale serenità, totale calma, nonostante magari sono partite avvantaggiate, diciamo, per quanto riguarda l'ipotetico risultato, però il fattore consapevolezza di essere una squadra forte, di essere una squadra che a livello di individualità si compone proprio come un puzzle, cioè completa e poi alla fine purtroppo mi ha perso 1-0, non è stato per niente piacevole, come al 92esimo? Sì, come ogni sconfitta, infatti la ricordo con grande frustrazione, rammarico, poi sai c'è un misto di emozioni quando perdi così dopo una grande partita, perdi all'ultimo su un errore tra l'altro nostro e puoi sentirle, vederle esultare, insomma, non è piacevolissimo, però detto ciò è una grande, grandissima squadra con un percorso super, super dignitoso. Beh, cioè con la Juventus avete pareggiato due volte, su due. Sì, esatto, esatto. Avete fatto perdere lo scudetto alla Juve, diciamo. No, abbiamo fatto delle grandi prestazioni anche contro la Juve, rischiano addirittura di vincere meritando, però anche la Juve sì, grande squadra, una grande unità, però penso, parere personale, che la compagine della Roma quest'anno meriti il posto in cui è e auguro loro di farcela, ecco. Quindi vabbè, un sacco di messaggi, un sacco di saluti, Saluti Eleonora, complimenti. Adesso vabbè, vai, vai, vai. Io trovo una domanda, fate le domande Eleonora che gliele riportiamo. Ah, brava, hai lanciato questo spot. Non fare tardi perché domani ti alleni, ti dicono giustamente. Esatto, domani videoanalisi, poi allenamento. Ecco, già quindi rispondi sul fatto dell'analisi, cioè anche lì la videoanalisi, il professionismo è anche questo, no? È anche curare i dettagli. Sì, poi noi siamo fortunate perché abbiamo comunque uno staff molto competente, impariamo tanto anche dalle videoanalisi, analizziamo la partita giocata lo scorso weekend e prepariamo poi la prossima partita, una bella oretta di videoanalisi a seguire allenamento dove proviamo anche degli aspetti visti a video. Infatti Ele, prima di passare alla prossima domanda, facciamo un preambolo e cioè andiamo alla pool salvezza, chiediamo a Max gentilmente di mandarci la grafica, che così facciamo vedere a casa chi ci segue, quello che è, diciamo, una reale situazione. Mi fai dire un secondo una cosa? Quest'anno la formula del campionato, per chi non lo sapesse, è finita la stagione regolare, dieci squadre e poi la classifica è stata divisa in due, quindi le squadre divise in due, pool scudetto e pool salvezza, con un mini girone a cinque squadre, con le squadre che si sono rincontrate, portandosi però i punti della regular season, giusto per... Esatto, esatto, bravissima. E quindi, per sintetizzare quello che è successo nel weekend, la Sampdoria ha battuto per 4 a 1 il Pomigliano, uno scontro diretto importantissimo, ai fini della classifica, come la potete vedere, perché prima era ultima e quei tre punti comunque gli hanno dato ossigeno, e sugli scudi Agnese Bonfantini, classe 99, è una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni per gli amanti del calcio femminile, ma quello che noi pensiamo è innanzitutto che lei nella scelta addirittura doveva venire a Sassuola, invece poi è andata alla Samp, e comunque nella sua scelta di rimettersi in gioco dopo un anno, come quello precedente, dove alla Juve comunque si era messa particolarmente in mostra, quest'anno le cose non sono funzionate e quando non funzionano bisogna dare le responsabilità a tutti, perché non stanno mai solo da una parte le motivazioni, però lei ha dichiarato, e io mi trovo molto in linea con questo, che lei ha bisogno di fiducia, bisogno di sentirsi anche al centro del progetto, e quindi lì alla Samp lo sta confermando, lo dicono i numeri, lo dicono i suoi gol, quindi prima di chiedere a te cosa ne pensi in realtà, di cosa significa per una ragazza giocare e giocare, trovarsi bene all'interno del contesto in cui ti trovi, Martina sei d'accordo no? Agnese adesso settimana dopo settimana si sta proprio caricando la squadra sulle spalle. Allora Agnese mi sono insegnata tutto, buon fantini, più che nelle ultime settimane, proprio nelle ultime tre partite ha fatto tre gol e la Samp ha fatto cinque punti, quindi se si vede appunto la classifica dove era prima, da dieci a quindici fa una bella differenza, perché l'ultima va in serie B diretta e la penultima spareggia con la seconda di B. Agnese è secondo me uno dei più grandi talenti che abbiamo partorito in Italia negli ultimi anni, quest'anno come dicevi tu Katia però quando le cose non vanno bene, lei dice ho bisogno di sentire fiducia, le colpe vanno sempre divise no? Perché un allenatore se ti vede in forma e ti fa giocare, non è matto. Secondo me Agnese deve diventare grande, deve diventare grande e deve diventare matura, cosa che sta facendo, cioè io lo spero perché credo veramente che Agnese sia uno dei, ripeto, dei più grandi talenti che noi abbiamo. Questa può essere la dimensione ideale, perché ha trovato probabilmente l'ambiente giusto, l'allenatore giusto, sta facendo dei gol bellissimi, importantissimi e anche perché Agnese deve riconquistarsi assolutamente la maglia della nazionale perché è fondamentale, perché una giocatrice secondo me, non so se siete d'accordo, è una delle giocatrici più internazionali che noi abbiamo come fisico e come caratteristiche. Assolutamente, ha tutti i parametri per imporsi da quel punto di vista perché appunto ha tecnica, velocità, fisicità e le manca solo la continuità, io ricordo che anche all'Europeo quando ha giocato quel tempo che in una situazione difficile dove l'Italia era certamente non la squadra che conoscevamo, comunque il suo l'ha fatto anche in quella circostanza, conferma di come quando i ritmi sono alti e il livello di gioco è anche più difficile, lei paradossalmente si trova di più nella sua zona di comfort di quando invece si gioca a un livello più basso. Questo significa che è un merito perché vuol dire che i mezzi sono incredibili, però il suo demerito è di dimostrarlo ogni sabato o ogni domenica e sicuramente in questa avventura in maglia Samp invece sta confermando tutta la sua qualità, non solo perché segna ma proprio per la centralità che ha nel gioco e quindi in questo senso ti voglio chiedere, ti vogliamo chiedere appunto da calciatrice non solo quanto è importante ma perché è così importante trovarsi bene per poi rendere, te lo dice una persona che ha cambiato mille squadre e che io come tutti mi sono trovata meglio in certi contesti, un po' peggio in altri però facevo di tutto comunque per farmi scivolare via le cose e per evitare che il mio rendimento ne risentisse però è inevitabile che insomma l'ambiente è un plus in più e quindi così volevamo sapere da te che appunto sei ancora in campo, se sono le stesse cose che succedevano vent'anni fa o se invece nel frattempo in vent'anni sono cambiate un po' di cose. Sono esattamente le stesse cose, penso che trovare continuità e di conseguenza fiducia più che all'esterno fiducia nei propri mezzi, consapevolezza delle proprie qualità perché espresse poi in campo di partita in partita fa la differenza perché veramente quando un giocatore sta bene, quando si sente al centro di un progetto, quando gioca, quando vede concretizzarsi comunque risultati in campo, penso possa raggiungere dei livelli che manco il giocatore stesso si può immaginare, penso possa raggiungere la massima espressione delle proprie caratteristiche e non solo perché tante volte vediamo giocatori che hanno continuità, che giocano, che sono in fiducia a fare cose che magari di anni precedenti non si era mai visto fare. Ma scusa Leo, ma secondo te è diverso? È diverso fra un uomo e una donna? Perché adesso stiamo, non per fare i paragoni, il paragone è un'altra cosa, qui leggevo che la, anche chi ci scrive, no? Fa paragoni sulla potenza, appunto non si fanno paragoni, però dal punto di vista psicologico ci sono differenze tra uomini e donne, mi sembra abbastanza evidente. Sì, secondo me sì, la donna comunque tende, poi ci sono tante eccezioni tra uomini e donne, la donna tende ad essere più sensibile e a viversi di petto le situazioni in maniera molto più profonda, sentita magari rispetto a un ragazzo, poi ripeto ci sono tanti ragazzi che invece non la vivono così e tanti ragazzi che invece diversamente sono particolarmente toccati anche da tante situazioni o toccati dal fatto che non hanno continuità, non giocano, quindi sì, questo sì, però a livello percentuale credo proprio che la donna abbia anche, la ragazza abbia anche bisogno di un certo tipo di tatto, di considerazione, di trattamento, un pochino accorto ecco. Qui chiedono se giocherai sabato, questo lo chiederemo a Piovanni, non potete chiederlo a lei. Esatto, questo lo scopriremo tra domani e dopodomani, io ogni giorno lotto e mi preparo per questo, quindi lo spero, chissà se mi può giocare. È giocata da Gianno tra l'altro. Tra l'altro partita fondamentale, non si dice niente, non si dice niente, però partita fondamentale. Bene, no, infatti solo per chiudere, io dico sempre agli allenatori che siano uomini e che siano donne, la caratteristica principale che devono avere è la sensibilità, perché senza la sensibilità diventa complicato gestire uno spogliatoio e quindi ricordo anche trasparenza, perché alla fine veramente noi ragazzi… E quindi coerenza anche. Sì, esatto, siamo sì molto sensibili, ma siamo anche pronte a cogliere e accettare le decisioni se vengono fatte con trasparenza e alla luce del sole, capito? Cioè, quindi penso sia fondamentale. No, no, sono assolutamente d'accordo, quando insegnavo, adesso in questo periodo ho fatto altre scelte, ma quando insegnavo agli allenatori battevo molto su questi aspetti, e quindi concordo. Allora, direi che ci avviciniamo, Marti, cosa dice Radiomessaggi? Qualcos'altro? No, tantissimo, a parte che qualcuno… Marti comunque stai diventando un piccolo Max, eh? No, no, sì, certo. Adesso racconto questa cosa, ci hanno chiesto prima della diretta di fare una cosa in chat, che abbiamo una chat di gruppo, dove hanno chiesto… Allora, dovreste fare questo link, mettere questo link in chat? E Katia ha risposto, io non ho neanche capito la domanda, quindi questo siamo noi, questo vi facciamo capire quanto siamo esperte, ma impareremo. E vabbè, complimenti a Eleonora, chiedono appunto se giochi, vogliono che faccia una tripletta. Vamos! Chiedono anche, non so se posso farti questa domanda, però io te la faccio lo stesso. Comunque ci sono molti interisti, tu non l'hai mai nascosto di essere interista. Qualcuno chiede se è arrivata all'Inter troppo giovane, forse. Guarda, mi sono anche fatta… anch'io mi sono fatta questa domanda. Quando sono arrivata all'Inter ero un'altra persona, un'altra giocatrice rispetto a quanto sono ora. e chissà, la risposta potrebbe essere probabilmente sì. Vedi, che fa domande molto interessanti. Sì, è vero, bella questa domanda. Tra l'altro, lo dico perché io l'ho detto fuori onda già qualche settimana fa e lo voglio dire in diretta, ma quante migliorate è Eleonora di testa? Veramente, non solo per i gol che fa, ma proprio in questo fondamentale è migliorata tantissimo e lo dico con stima, ma anche per far capire a chi ci segue da casa che davvero l'applicazione che ci mettono le giocatrici è qualcosa forse di inimmaginabile. Pertanto, vedere una giocatrice un anno e rivederla a distanza di tempo vi renderete conto dei numerosi miglioramenti che fanno perché io ricordo anch'io l'ultimo allenamento a 38 anni io ero ancora lì che volevo imparare e migliorarmi perché si diceva prima psicologicamente ci sono delle differenze e la prima grande differenza è che non è il risultato quello che noi ci poniamo ma è il percorso per come arrivare al risultato che è quello su cui noi basiamo il nostro impegno, i nostri sacrifici e in questo senso veramente mi fa piacere vedere poi che è una caratteristica di chi gioca e Leo è migliorata in tantissimi aspetti ma secondo me il colpo di testa è qualcosa che partiva magari da un po' una difficoltà e invece adesso è veramente forte, forte Girelli si dovrebbe un po' preoccupare perché dentro all'area di rigore, che Girelli è la top è giusto dirlo, in area è veramente fortissima però grande Leo, davvero sei... è quasi segnato di testa tra l'altro se non ho visto male domenica no, anche segnato, anche segnato no, l'ultima, l'ultima l'ultima di campionato sì, è vero no, diciamo sì, adesso è una delle mie caratteristiche che sto sviluppando maggiormente ma a proposito di Girelli guarda che si impara tanto osservando io ho visto, mi sono guardata e riguardata tanti video di suoi gol i movimenti che fa prima del cross, come aspetta la palla come osserva l'azione quindi penso che tante piccole cose poi uno osservandole e praticandole le acquisisca così come la mia grande voglia e determinazione di migliorare questo aspetto io comunque riconosco di avere diversi limiti penso come tutte le persone e quello che non mi è mai mancato è il desiderio di lavorarci per migliorare perché penso che la determinazione e la ripetitività di un gesto o del lavoro possa portare a dei risultati concordiamo, concordiamo ne facciamo far tardi, dobbiamo mandarla a dormire esatto dobbiamo chiudere e siccome vogliamo chiudere tutte insieme semplicemente questo tocca a me Martina, ci inventiamo il gioco dei pronostici dove di sicuro non ci azzecchiamo mamma mia di sicuro non ci azzecchiamo però non li chiediamo a te Lau, non ci ascoltare tappate le ore ok allora Roma-Fiorentina io dico 1 tu Marti eh sì, dai troppo in fiducia troppo in fiducia la Roma in questo momento Milan-Juve dico X eh vabbè, sai che stavo pensando la stessa cosa adesso non è che lo facciamo apposta però anche secondo me vediamo se la Juve molla molla di testa soprattutto e anche io dico X no, io non credo che mollerà perché è nel DNA della società no, Eleonora scuota la testa adesso però dai no, no che mollerà non penso proprio che mollerà no, no, nel senso dopo la sconfitta contro la Roma magari si concentrerà un po' di più poi per la finale di Coppa Italia no, non che mollerà no, io penso che non molli e però fiducia nel Milan che ho visto nell'ultimo weekend d'altronde ha già battuto la Juve no, in stagione esattamente e quindi così penso che sarà una partita da X esatto Parma-Pomigliano eh Parma-Pomigliano è tosta perché il Parma non è non è in un bel momento Pomigliano neanche quindi o si fa male a vicenda appunto perché un pareggio non servirebbe a nessuno ricordiamolo e potrebbe venire fuori secondo me un altro un altro pareggio io invece mi sbilancio e dico uno ok soprattutto perché giocano in casa e quindi devono necessariamente secondo me anche fare la differenza perché hanno delle attaccanti interessanti e in casa devono devono fare assolutamente il risultato e poi hanno riposato e quindi questo potrebbe essere un valore aggiunto per per avere un po' di freschezza atletica e infine Sampo Sassuolo Oddio Sampo Sassuolo è tosta perché la Sampo è in fiducia super super in fiducia voi venite da una sconfitta Leo e secondo me un pochino la classifica cioè ora non dico che vi che vi sentiate salve perché non tutte le partite finché l'aritmetica com'è che dicono quelli finché l'aritmetica non ci dia però magari dovete avere un po' più fame probabilmente perché le altre hanno tanta fame quindi se avrete fame come il Sassuolo è superiore alla Sampo altrimenti è un problema io prima di far rispondere a Leo mi sbilancio no Leo infatti tu non puoi commentare io mi sbilancio e e dico due e dico due perché i valori oggettivamente sono sono diversi e anche sabato è vero il Sassuolo non ha vinto però le sue azioni golle avute e magari se la buttava dentro poteva andare diversamente la partita e quindi credo comunque che che alla lunga anche il Sassuolo non molla un centimetro e per cui mi aspetto tu non direi niente basta che vinca quindi ascolto e basta Katia salutiamo? beh dai direi io andrei avanti fino a mezzanotte ma non non mi sembra opportuno riconoscendoti anche fino a mezzanotte e quindi no grazie grazie a tutti sono arrivati tantissimi tantissimi commenti la prossima volta saremo più più brave adesso dobbiamo un po' imparare capire come funziona qui dicono anche torno a Napoli ricordiamo che tu hai vissuto due stagioni molto belle Napoli Napoli sì intanto tornerai sicuramente da da turista e poi niente diventeremo più brave dai direi un buon alla prima io vi faccio i complimenti questo è sicuro grazie grazie è perché Martino è sempre pessimista per quello io dico ti sei divertita Marti? io sì no moltissimo moltissimo ho divertita molto anche perché veramente tante persone ci scrivono cose molto molto interessanti qualcuno quando è arrivata quando siamo entrati ci hanno scritto Cassano me lo ricordavo diverso mi ha fatto molto ridere ma non lo trovo più e quindi veramente molto divertenti ma settimana prossima ne leggeremo molti molti di più niente è stato un piacere Leo grazie di essere stata con noi grazie a voi mi viene da dire quando vuoi speriamo di rivederci presto esatto speriamo aspettiamo quindi ciao a tutti a settimana prossima ciao e buonanotte ciao 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 ciao